Buon pomeriggio a tutti e ben trovati! Buon mercoledì! Stavo dicendo buon giovedì! Ecco, e questo è già un problema. Allora un saluto al nostro pubblico qui in studio e naturalmente un saluto a chi ci segue da casa. Quello che vedete, che state per vedere, è il volto, eccolo, di Sara Di Pietrantonio, la ragazza di 22 anni, uccisa dell'ex fidanzato nella notte tra sabato e domenica a Roma. Un nuovo femminicidio che ha scosso tutti noi anche per l'aggravante di una inaccettabile indifferenza. Almeno due testimoni passati in scooter hanno assistito all'aggressione ma non si sono fermati ad aiutare la giovane donna che pochi minuti dopo è stata uccisa. Ne parleremo più avanti nel corso della nostra puntata, soprattutto per capire che cosa sta accadendo nelle relazioni tra uomini e donne e cosa rischia di trasformare le nostre città in deserti di umanità. Prima però vogliamo proporvi un viaggio originale tra religioni e cucina. Tra pochi giorni inizierà il Ramadan, un periodo di grande importanza per i fedeli dell'Islam. Un mese sacro dedicato alla preghiera che prevede i rigidi dettami anche in fatto di alimentazione. Allora, per il nostro approfondimento di oggi partiremo proprio da questo appuntamento. L'inizio del Ramadan per poi allargare lo sguardo al rapporto che lega fede e cibo. Musulmani, ebrei, cattolici e ortodossi. Oggi parleremo insomma di similitudini e di diversità con una chiave peraltro molto molto particolare. Sì, cercheremo Massimiliano di capire meglio che cosa prevedono le diverse fedi in fatto di tavola, di alimentazione. Ci interrogheremo ovviamente anche su quello che indica la religione cattolica e qui penso innanzitutto alla regola del digiuno. Intanto però torniamo all'Islam e andiamo a Torino, andiamo nel mercato di Porta Palazzo. Perché se ad un certo periodo dell'anno corrisponde un certo cibo, beh allora è molto importante come e dove viene fatta la spesa. Vediamo. Porta Palazzo è un punto di riferimento per gli stranieri perché il sabato tutta la città di Torino, anche al torno di Torino, vengono persone stranieri, marocchini e altri per fare la spesa per tutta la settimana. Porta Palazzo è cambiato tanto. Io che sono arrivata nel 94 all'inizio, venivo qua, non c'era nessun marocchino che ha un banco. L'immagine è cambiata totalmente. Noi come cittadini marocchini che viviamo qua a Torino, anche per portare la nostra cultura alle altre, si usa il cibo. Il piatto più diffuso da noi si chiama cusclus. Il sabato che tutti gli italiani l'hanno assaggiato quasi. Contiene la carne con verdura, tutti i tipi di verdura e la semola. E si cotta una pentola che ha due piani. Alla fine si usa olio d'oliva, sale e si presenta nel piatto così. Si mangia un piatto unico. La carne, noi qua a Porta Palazzo andiamo sempre alla macelleria dove si trova la carne halal. La carne halal è una carne, sì, sì. L'anielo le uccidono anche la moca in modo particolare. Il sacrificio del figlio Ismael al papà che voleva ammazzarlo e Dio l'ha cambiato con l'anielo. Qua si vende la roba marocchina, è venuta dal Morocco, che si usa nel cusclus. C'è la pave, la zucca, la raffa gialla e bianca. C'è anche la menta e il prezzemolo che si usa per fare la harira. Stanno facendo il Ramadan, così loro si stanno preparando per vendere la roba del marocco proprio. Cambia la vita quotidiana durante il Ramadan perché si mangia la sera, si riunisce con gli amici, la famiglia, si fa la preghiera. Insegna ad essere tolleranti, pacifici, anche ad amare l'altro e ad aiutare l'altro. Il prezzemolo è il prezzemolo e il corandolo, si usa per la harira. Invece la menta e altri tipi di piante profumate si chiama flio, buono. Questo qua, ho il nome marocchino, non lo so come si chiama in Italia, danno il profumo al tè. Adesso, come la primavera, si usa soprattutto queste piante. Ciò credo. Ezzedin Ezzir, bentornato, il primo ospite che svegliamo qui alla tavola di Siamo Noi. Lui è imam di Firenze, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Oggi è stato ospite qui in momenti molto più difficili. Oggi invece avrà un compito importante, quello di accompagnarci in questo viaggio alla scoperta della cucina musulmana. Insomma, vogliamo anche noi capire qualcosa di più delle tradizioni che legano appunto la cucina alla religione musulmana. Le chiederò di entrare nel dettaglio tra pochissimo. Però vorrei approfittare della sua presenza per chiedere qualcosina sul Ramadan. Innanzitutto, quando inizia, quanto dura? Vorrei partire dalle basi, perché poi ne sentiamo parlare, ma forse ne sappiamo poco. Ramadan è realmente il nono mese del calendario islamico, un calendario lunare. Perciò, come noi vediamo, ogni anno viene in anticipo 10 giorni, mediamente. Perché l'anno è il mese lunare di 29 o 30 giorni. Quest'anno inizia il prossimo lunedì, il 6 giugno, il primo giorno di Ramadan. Noi abbiamo deciso di seguire il calendario secondo la matematica realmente e la visione, non solo la visibilità dell'occhio, ma anche quella scientifica. Ci sono diverse scuole islamiche che non accettano questa visione, ancora devono aspettare fino a domenica sera per vedere la nascita del luna. Perciò aspettano fino a domenica sera, si vedono luna, dichiarano che lunedì, il primo Ramadan, noi abbiamo seguito un'altra scuola e quella che vede, senza vedere la luna, si inizia il 6 giugno. Per un mese? Per un mese sarebbe 29 o 30 giorni. Questo Ramadan per noi 30 giorni, perciò la fine di Ramadan, il primo giorno di festa sarebbe il 6 luglio. E nell'ambito della giornata, quanto dura il digiuno? Cioè quando si può bere qualcosa o mangiare qualcosa? E' dura adesso il luglio. E questo mese è un mese un po' duro, perché realmente dal 3 del mattino fino alle 9 di sera, una giornata lunghissima. Perché il sole tramonta tardi l'estate. In questo mese in particolare tramonta troppo tardi, non si può mangiare, non si può bere, i primi giorni sono un po' difficili, ma poi il corbo si abitua. Capito Gabriele? Infatti l'obiettivo del digiuno, credo, in tutte le fede religiose, non è la sofferenza, ma la disciplina, l'educazione, l'autocontrollo. Allora, tanta carne al fuoco oggi ed è proprio il giorno giusto, insomma, per usare questa espressione. Il tema di Ramadan non è proprio... Non per il Ramadan, ma per la puntata, come scoprirete, di sicuro sì. Allora, prima di tornare alla cucina musulmana, facciamo un'altra tappa e apriamo il collegamento con la nostra Caterina Dall'Olio. Caterina, dove sei? Ciao Gabriella, ciao Massimiliano, ciao a chi ci sta seguendo da casa. Siamo al ristorante Yotvata, siamo in piazza Cenci, in pieno ghett ebraico, proprio dietro l'angolo c'è la sinagoga di Roma. Ad ospitarci è Marco Sedde, che è qui di fianco a me e la sua famiglia, che oggi ci accompagnerà all'interno di questo bellissimo viaggio, all'interno della cucina ebraica. Marco, qui davanti a noi, come vedete, Marco ci ha preparato tantissime cose che adesso ci spiegherai. Cosa andiamo a fare in questi collegamenti? Allora, partiamo dall'inizio. Oltre ai carciofi della giudia, andremo a fare gli aliciotti colindia, che è un piatto tipico della tradizione ebraica, la concia di zucchine e poi infine la cassola di ricotta. Ecco Marco, sono tutti piatti, come mi raccontavi poco fa, che sono tipici della tradizione ebraica, della vostra cultura, che qui nel vostro ristorante è fondamentale. Noi siamo un ristorante kosher, strettamente kosher, con il controllo della comunità ebraica di Roma, che sistematicamente anche più volte al giorno ci fa controlli e ci ispeziona le materie prime e le varie operazioni di realizzazione dei piatti. Ecco, questa tradizione è importantissima all'interno della tua famiglia, questo ristorante ha conduzione strettamente familiare, quindi la cucina occupa un posto importante nella vostra vita di famiglia. Assolutamente fondamentale, la nostra tradizione è storica, come molti ebrei romani, veniamo dai negozi di abbigliamento, poi ci siamo rigenerati 14 anni fa, nasce dalla passione di mia moglie, Sharon, per la cucina e decidiamo di abbrire questo ristorante, fatto secondo le normative strette ebraiche della Cacerut. Ecco, tra l'altro qui, prima lo specifichiamo, si preparano cibi solo a base di verdura, formaggio, pesce, ma non di carne. Sì, perché il primo divieto nella normativa ebraica è quello mai di mischiare la carne con il latte, quindi un ristorante certificato come il nostro kosher o è di latte e pesce o potrebbe essere di carne e pesce, ma nel nostro caso noi siamo di latte, anche in prossimità della festività di Shavuot, quindi siamo ristorante kosher di latte. Bene, allora noi adesso lasciamo Marco cominciare a lavorare, che mostrerà a me, poi mostreremo a voi i vari procedimenti di questo banchetto che abbiamo improvvisato e ci vediamo fra pochissimo. Bene, bene Caterina, mi raccomando, impara qualcosa almeno, almeno da questa puntata, per poter fare finalmente un pranzo decente. Ci provo, ci provo! Allora, da Caterina andiamo alla nostra Eugenia. Sì, raccontateci allora anche voi del vostro rapporto con l'alimentazione, di quanto tenete a mente le regole della religione nello scegliere il cibo e le ricette più adatte. E a proposito di ricette, condividete con noi quelle tipiche della vostra famiglia, sia quelle di ieri ma anche quelle di oggi. Fateci sapere infine se pensate che negli anni si sia un po' persa questa attenzione alle indicazioni religiose sul cibo e sulla cucina. Potete farci sapere tutto questo chiamandaci all'822 88 96 e lasciandoci un messaggio in segreteria, oppure potete scriverci siamo noi chiocciolatv2000.it, potete mandarci un tweet chiocciola siamo noi tv2000 o se volete c'è anche la nostra bacheca di Facebook pronta anche ad accogliere le foto dei vostri piatti preferiti. Grazie Eugenia. Abbiamo appena cominciato, però insomma iniziando ad ascoltare i precetti alimentari di ebrei, musulmani, insomma ricordando anche alcune abitudini delle nostre nonne, la prima impressione è che in qualche modo tra i cattolici il legame tra festività religiosa e alimentazione un po' si sia allentato. Allora su questo punto io vorrei coinvolgere subito Massimo Salani, storico delle religioni, ben arrivato, e Don Andrea Ciucci del Pontificio Consiglio per la Famiglia e grande esperto di gastronomia biblica e religiosa. Benvenuti entrambi. Allora Salani, Don Andrea, nel dettaglio poi ci entriamo tra pochissimo, però io vorrei chiedervi una conferma, cioè se vera questa mia impressione, se questo legame un po' tra i cattolici si è allentato, chi comincia decide devolordi. Io sono molto più severo, io a questo sondaggio parteciperai sicuramente dicendo che noi stiamo perdendo completamente, noi ormai abbiamo perso praticamente tutto, sopravvivono solo forme di tradizione, di cui noi non sapevamo nemmeno più rendere ragione, stiamo quasi dimenticando ad esempio che il pane non si può presentare rovesciato in tavola, e per quale ragione non si presenta il pane rovesciato in tavola? Per quale ragione? Quasi tutti rispondono perché porta sfortuna ovviamente, forse dimenticando che il pane ha un significato religioso ben preciso, rimanda a Gesù, rimanda al Nuovo Testamento, rimanda all'Antico Testamento, tutta la Bibbia profuma di pane. Tutti noi stiamo dimenticando le regole basilari, prima si è parlato giustamente del grande mese di Ramadan, ma dovremmo anche riscoprire i piatti della Quaresima, i cristiani per Quaresima quali piatti utilizzano, il biancomangiare, chi ormai se lo ricorda più, o chiamando in causa la tradizione kosher che ha ovviamente inevitabilmente legami con quella cristiana, pensate alla cucina del quinto quarto, e quindi tutto quello che noi consumiamo, che non sappiamo più consumare, che stiamo abbandonando, c'è tutto un mondo particolare. La cucina del quinto quarto, il quinto quarto. Che cos'è questo quinto quarto? Quell'alimentazione che ci permette di recuperare, e soprattutto di mettere in evidenza quanto è importante le parole di Papa Francesco, sullo scarto alimentare. Del maiale non si butta via nulla giustamente. In verità un ospite qui il quinto quarto ce l'ha portato. Ma dobbiamo veramente viverlo fino in fondo questo. Pensate al fatto che noi non preghiamo più prima dei pasti. Ecco, donna Andrea, qui mi ha dato un po' il là Salani, perché le chiedo, intanto se è d'accordo, è stato abbastanza severo, ma se tutto questo, anche appunto non pregare prima dei pasti, ci riporta ad un mondo in cui viviamo, che in realtà sta perdendo spiritualità. Può darsi, ma non mi interessa più di tanto. Preferisco guardare quello che mi aspetta, piuttosto che quello che c'era prima. E certo, io credo nel cuore, nella testa di molti, ci sia una domanda, e una domanda grande di senso. E il cibo, certamente, essendo uno dei luoghi fondamentali della vita, è capace di riporre questa domanda, e di riporla anche con la forza, con la forza non teoretica, con la forza della fame, che è una cosa che parte da dentro ed è assai forte. Insieme, però, nell'esperienza cristiana, attenzione, perché il cibo è qualcosa di estremamente liberante, non è qualcosa di codificante o, peggio, di normative, è liberante. Noi mangiamo ogni domenica un cibo che ci libera, non un cibo che ci rende in schiavitù. E anche le norme, non ci sono norme, c'è una possibilità di essere liberi, che è sempre dischiusa anche dal cibo. Dopodiché, quello che abbiamo, è certo, noi viviamo in un contesto che non è più cristiano, si dice di post-cristianesimo, a tal punto che i numeri ci dicono che, per esempio, gran parte anche di quelli che in qualche modo riconoscono un riferimento all'esperienza cristiana, non partecipano al pranzo per eccellenza dell'esperienza cristiana, che è la messa domenicale. Ma il problema non è legato al cibo, è legato a un'appartenenza significativa, a un'esperienza religiosa. E cosa succede nelle altre religioni? Coinvolgo nella nostra discussione anche il rabbino della comunità ebraica di Roma, Iacov di Segni, benvenuto, e padre Gheorghe Militaru della Chiesa Ortodossa Rumena d'Italia, benvenuto anche a lei. E partire proprio da voi, no? Rabbino e padre Gheorghe, perché prima vorrei chiedere, prima di entrare nello specifico, vorrei chiedere una valutazione, definiamola così, preliminare della vostra religione. Vi chiedo, e partirei da disegni, se ritenete la tavola un mezzo per ascoltare e mettere in pratica le indicazioni del credo. Sicuramente la tavola e l'alimentazione ha un'importanza grande all'interno della religione, partendo dalle prescrizioni della Bibbia che ci indicano quali animali possono essere mangiati, quali non possono essere mangiati e quali sono le modalità di macellazione degli animali, quali miscui si possono fare tra specie diverse, tra animali, tra carne e latte, come è stato ricordato, in ogni casa ebraica religiosa non si troveranno mai dei piatti di carne e latte insieme, ci sono dei servizi separati, quindi già le prescrizioni della Bibbia incidono molto sulla tavola ebraica, ma a differenza forse di altre religioni, la tavola ebraica è anche un luogo dove ci si incontra durante le feste e anche durante i giorni feriali ed è un posto dove la famiglia ritrova l'importanza di condivisione, condivide il pasto e ritrova i valori spirituali e religiosi anche dell'alimentazione. Padre Gheorghe, invece nella Chiesa Ortodossa? La Chiesa Ortodossa cerca di tenere viva la coscienza che è quello che viene ispirato dal primo capitolo della Genesi in cui tutti i sementi della terra, le frutte della terra sono un dono di Dio, quindi avere questa consapevolezza viva ti permette anche di ricordarti che a tavola non sei da solo col tuo piatto, ma sei in una comunione con i tuoi fratelli, con la tua famiglia e un legame stretto con colui che dona tutto quello che abbiamo sulla tavola. C'è condivisione anche in questo caso? Assolutamente sì. Abbiamo ricordato la mancanza della preghiera prima del pasto. Questo noi cerchiamo di tenerlo fortemente saldo. La Chiesa deve risvegliare questa consapevolezza che non è che io porto la spesa sulla tavola ma è un lavoro, un dono di Dio che attraverso il lavoro dell'uomo è una benedizione per la famiglia stessa. E che si condivide intorno a quel tavolo. Torniamo all'Islam e al Ramadan. Abbiamo detto al Zira alcune cose che inizia tra pochi giorni, che durerà all'incirco un mese, che si svolge dall'alba, il tramonto visto che segue il calendario lunare e tocca d'estate sarà un po' lunga perché il sole tramonta tardi. Che cos'altro prevede il Ramadan? Realmente questi principi importanti di smettere, certamente in maniera volontaria, di mangiare delle cose lecite perché realmente l'acqua e altri cibi sono cose lecite confermo la visione cattolica per essere liberi perché si dimostra a se stessi che io sono quello che decido vuol dire che sono un uomo o una donna libera, libero e allora io decido di smettere di mangiare o di bere, certamente anche di avere rapporti sessuali con la propria moglie dalla mattina presto dall'alba fino al tramonto del sole. Poi smettendo, dopo il tramonto del sole si riprende la vita nella normalità. Normalmente una persona che fa il digiuno può mangiare ma non può mangiare in maniera normale mangia pochissimo realmente qualche zuba, qualche cosa semplice sempre con moderazione con moderazione purtroppo quello che c'è nel mondo islamico oggi è che tantissime famiglie fanno tantissimi cibi e poi alla fine invece di vivere la spiritualità del digiuno, del Ramadan fanno il contrario viviamo la realtà del consumismo perciò la realtà del scarto della cultura non solo nella realtà cattolica o nel mondo occidentale ma purtroppo è una questione mondiale. Senta Alzire quando si riprende a mangiare sia alla fine del Ramadan che dopo il tramonto ci sono degli animali proibiti? No, no certamente quello che è proibito prima del Ramadan è proibito la carne di maiale che è proibito sempre ma realmente quello che si mangia durante l'anno si può mangiare dopo il tramonto del sole l'importante è realmente eseguire la moderazione Lei ha detto prima una cosa interessante perché ha spiegato che comunque è complesso non bere e non mangiare dall'alba al tramonto soprattutto quando il tramonto arriva tardi come nel mese di giugno però lei ci ha spiegato che questo non va inteso come una sofferenza mai io credo che qualsiasi adorazione verso il Signore deve essere una liberazione verso il Signore e questo dipende dalla persona se lo fa in maniera diciamo libera o se lo fa in posto se la questione è imposta da questa persona certamente è sofferenza se la fa perché è una persona libera che ha scelto di seguire questa strada lo vede sì i primi due o tre giorni che il corvo prende la forma e allora un po' di dolore un po' di sofferenza ma il resto del mese diventa realmente un momento di felicità allora nel nostro pubblico ci sono degli ospiti speciali che passo subito a presentarvi innanzitutto Emin Ozturk ben arrivato alla commerciante presidente dell'Associazione Culturale Turca a Roma la signora Sabrina Chechi seduta accanto a lui e le signore con degli abiti che non si possono notare Ana Basciu e Tatiana Tudoraki ho detto bene con la C benissimo allora quali sono le loro specialità sono tutti cuochi cuochi sopraffinei e soprattutto li accomuna la grande cura che mettono nel seguire i precetti religiosi che di sicuro non hanno dimenticato benvenuti allora io Gabriella mi sono spostato non finire tutto perché ho seguito il fiuto come sempre non finire tutto l'odore e quindi sono venuto qui per cercare di capire di che cosa stiamo parlando a cosa attribuire questo odore intanto invito Emin a raggiungermi qui per raccontarmi un po' di questo banchetto di fatto allestito vorrei appunto qualche delucidazione in più allora innanzitutto Emin raccontaci un po' di che piatti stiamo parlando che piatti sono questi buonasera a tutti io partirei da sembrano degli involti che sono allora questo si chiama sarma un piatto turco orgina foglio di oliva un po' di olio e un po' di riso sale niente semplice un piatto molto semplice gli altri due sono maggiormente diversi però due tipi di dolce sempre si chiama baklava sempre un piatto turco come si chiama baklava un piatto turchia è molto famosa in turchia come sono fatti allora pasta di fiole nocciola sciroppo miele devono essere buoni Gabriele sono buonissimi te lo garantisco qui il pistacchio e qui il cocco qui il cocco allora la domanda che mi pongo è se questi piatti vengono preparati normalmente insomma nella cucina quotidiana o quando ricorrono determinate festività come funziona ma questo normalmente anche per festività anche il giorno di normale per ospiti che dobbiamo presentare la cucina nostra e come si preparano? allora partiamo partiamo dai dolci che io sono più interessato lì insomma diciamola tutta questi dolci come si si preparano? allora questo si prende prima di foglia di pasta si mette prendi appunti prendi appunti preferisco assaggiarli non ci provo neanche a preparare il baclavà niente vabbè magari dopo assaggiate vedete come questo è più per averli tutti i giorni io speravo che Gabriele imparasse qualcosa no preferisco assaggiare ribadisco allora pasta di sfoglia abbiamo detto si mettiamo dentro un po' di pistacchio un po' di noci e mettiamo dentro il forno si vuole mezz'ora e 40 minuti appena la cotta portiamola fuori mettiamo sciroppe sopra e riportare quasi mezz'ora quindi è lì più o meno uguale soltanto che c'è il cocco lo stesso cosa si sono il cocco e i pistacchio sono due cose diverse invece questi qui come si preparano questi altri? questo qua sempre pasta di foglio prima dobbiamo cucinare questo con acqua bollente poi la mettiamo uno per uno dobbiamo mettere il riso prima di dentro e poi olio volendo anche un po' di aglio però l'assenza aglio abbiamo fatto per oggi e poi la si mette al forno credo 20 minuti in Asia e questi piatti in rapporto con la religione? esiste un rapporto rispetto appunto al credo professato? non è un piatto tipicamente legato e invece quanto è importante per lei la cucina il cibo e quanto è importante che il cibo al di là dei piatti che lei ci ha portato oggi seguano appunto la religione ci sono delle delle tradizioni che legano in Turchia e comunque nelle zone limitrofe il cibo alla religione credo secondo me per me una cosa che è più importante è una cosa culturale magari si presenta la piatto non come religione come culturale esempio il prossimo mese ci abbiamo intervista anche per conoscere la cucina italiana in Turchia un tv e insomma questo è importante credo che i suoi amici apprezzeranno molto di essere invitati a casa sua a cena o a pranzo questo sicuramente si è invitato dovesse scappare un invito anche per me la facondo lasciamo la sola non mi sorprende noi siamo qui non mi sorprende questo mi sorprende che sei riuscito a resistere e non hai ancora assaggiato i dolcetti e aspetta che stacca la telecamera allora Salani il cibo ha una posizione centrale in tutte tutte le religioni in tutte in tutte le religioni non si conoscono religioni che di fatto non indichino un percorso dove l'alimentazione in qualche modo possa contribuire alla crescita spirituale di una persona è sicuramente vero l'aspetto culturale che abbiamo appena sentito il resto dell'opinione è che un rapporto corretto tra cibo e uomo non può non anche investire l'aspetto spirituale e di crescita ecco abbiamo sentito questo è vero in tutte le religioni vale per tutti abbiamo sentito diversi precetti accostamenti che non si possono fare ci sono delle regole che assomigliano tra una religione e l'altra sicuramente c'è una regola principale quando si parla di interdizioni alimentari praticamente tutte le interdizioni e le proibizioni colpiscono la carne e infatti in questo incontro anche avrebbero trovato spazio le confessioni le religioni le tradizioni religiose che ad esempio hanno come alimentazione quella vegetariana e vegana per cui l'abbandono della carne in qualche modo tranne la religione cristiana che di fatto è una religione di totale libertà per cui non abbiamo alcun imbarazzo se non in alcuni momenti poter rastinenze e digiuno ce lo diceva poco fa il zir diceva la carne di maiale resta proibita prima del ramadano e naturalmente anche durante poi sentiremo anche il rabbino di segno a proposito della carne ma perché l'attenzione è proprio sulla carne perché per le religioni in generale la carne comporta l'uccisione comporta la morte di un essere vivente e davanti alla morte di un essere vivente anche quelle religioni che hanno una relazione molto particolare con la carne e quindi con l'uccisione come ad esempio la tradizione cosciera e anche halal fanno sì che i deputati all'uccisione della carne siano delle persone specializzate non chiunque può uccidere la carne e soprattutto nel momento dell'uccisione della carne devono essere eseguiti alcuni riti ben precisi e poi sentiremo ce li faremo illustrare e nel cattolicesimo più che indicazioni su ingredienti o modo di cucinarli c'è soprattutto l'idea della sottrazione del fare a meno di mettere di fatto alla prova la propria volontà di credente allora io partirei se lei è d'accordo dal cosiddetto magro cos'è e quando si dovrebbe mangiare magro secondo la religione cattolica nella religione cattolica c'è una regola sola che è quella che dice San Paolo che dice che si può fare tutto e che non c'è niente di impuro ma per la carità del fratello io sono anche disposto a non mangiare una cosa che di per sé è assolutamente buona e lecita l'unica legge che c'è nell'esperienza cristiana è la legge dell'amore tra i fratelli e con Dio questa è la prima cosa e la stessa cosa vale per l'esperienza del digiuno che è certamente un'esperienza per cui uno si costruisce come uomo libero ma neanche semplice solamente richiusa su se stesso è la parola di Gesù che dice ricordati che non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio è riconoscere che tu non basti a te stesso che in qualche modo non sei capace di risolverti l'esistenza che quella family non è semplicemente un qualcosa da soddisfare il più velocemente possibile ma dice un'apertura grande e profonda allora il problema non è semplicemente il magro anche se poi si è codificato di fatto nel non mangiare per esempio la carne il venerdì o la quaresima ma è il problema del dire riconosco che c'è qualcosa di più grande di me di più forte di me e dopodiché la regola del magro non è neanche assoluta perché il digiuno quaresimale che è forse la cosa che per eccellenza rimane dice l'esperienza cristiana è certamente una grande pratica ma può essere innanzitutto non è data a chi fa per esempio i lavori usuranti perché giustamente se uno fa un lavoro di fatica deve mangiare ma poi può essere sostituita da un gesto significativo di carità o da un'esperienza intensa di preghiera perché il problema non è quel cibo o non quel cibo il problema è come tu ti stai rapportando con Dio e con i fratelli quindi la regola dell'amore come lei ci ricordava prima Don Andrea ma è vero che nel medioevo i cristiani quando bevevano sorseggiavano cinque volte perché? può darsi ma non lo so forse bisogna chiedere a lui che è più esperto sentiamo un po' no non lo so quindi mi pare di capire che non esistano tabù alimentari per i cattolici nessuno questo è importante appunto l'unica regola è la regola dell'amore però mi pare che ci sia un invito alla moderazione su questo sì no nemmeno questo la più grande la più grande grigliata di pesce l'ha fatta Gesù nel capitolo 21 di Giovanni erano in otto a tavola e ha cucinato 153 grossi pesci i peccati di gola non esistono e come se esistono i peccati di gola è quando noi pensiamo di sfamare soltanto di sfamare noi stessi la nostra vita allora andiamo da Gabriella che invidiosa don Andrea mi ha legittimato si vuole rifare mi ha legittimato perché adesso tocca a me giustamente sono qui con la signora Sabrina Chechi e finalmente anch'io non solo aspiro questo aroma delizioso ma tra poco anche assaggio allora signora Sabrina di chi si tratta che c'è qui buonasera allora qui abbiamo un agnello fatto al forno con le patate un profumo principalmente si fa il giorno di Pasqua in quanto simboleggia appunto il sacrificio di Gesù e quindi abbiamo le dico come si prepara? sì e questo no prima però mi dica che cosa è questo perché anche questo evidentemente è un dolce pasquale perché ci ha messo le uvette sopra insomma questo è un dolce diciamo molto povero della cucina italiana è chiamata pizza sbattuta perché le uova vengono montate a neve e quindi vengono mi dica come si prepara questo perché quello è troppo difficile con questo posso sorprendere Massimiliano che chissà che gli faccio una bella sorpresa anche se non se la merita per niente glielo faccio vedere almeno preparato questo è che adesso si chiama pan di Spagna il famoso pan di Spagna viene preparato per la mattina della colazione di Pasqua e quindi viene poi accompagnato appunto con la cioccolata quindi si può fare la colazione ma noi poi lo prepariamo anche quando abbiamo qualche ospite perché poi è un dolce praticamente sì povero ma poi da condivisione quanti tuorli? sei sei insomma quindi bello ricco allora lei ha preparato questi due piatti la domanda che mi viene a farle sapendo perché ho spulciato nella sua scheda che lei ha tre figli è impegnatissima in parrocchia è quando li prepara dove trova il tempo l'energia per farlo e poi per quale occasione questa è una domanda interessata per quale occasione sì allora forse sì dipende da come ho la gestione della settimana o la mattina presto perché io sono molto mattiniera o magari come ho fatto ieri l'ho preparato ieri sera prima di andare a letto e non c'è Pasqua in cui lei e anche la sua famiglia non faccia trovare questo tipo di menù esatto allora ci dice un trucchetto speciale questo può essere utile pure a lui ora Massimiliano qualcosa che è proprio il suo tocco distintivo che rende speciali le sue ricette che siano salate o che siano dolci glielo devo proprio dire sì assolutamente sì il cuore e l'amore splendido hai visto che Don Andrea ha ragione splendido è la prova che Don Andrea aveva ragione chiedo a padre Gheorghe e a disegni se i piatti che abbiamo visto finora hanno a che vedere anche con le vostre religioni cioè la vostra vita quotidiana disegni profondo poco sicuramente beh l'agnello fa parte di una delle scene più importanti della religione ebraica e della cena pasquale in realtà l'agnello viene mangiato nella comunità di Roma da molto tempo in altre comunità l'agnello non viene più mangiato dalla distruzione del tempio di Gerusalemme quindi è forse una delle particolarità della comunità ebraica di Roma che è ancora rimasta e ancora oggi gli ebrei di Roma mangiano l'agnello padre Gheorghe assolutamente sì prima però di agganciarmi l'agnello volevo solo sottolineare un fatto importante è quello che ha detto il sacerdote cattolico che tutto è lecito tutto può essere utilizzato ma con misura con moderazione con moderazione non parliamo di un digiuno a se stesso che è un fine a se stesso ma un digiuno che è purificante inserito in un cammino di fede in cui l'uomo fa un sacrificio volontario per se stesso e non per il cibo quindi si aggiunge la preghiera si aggiunge le letture la carità la confessione e allora io non vivo per mangiare ma mangio per vivere questo è un tema molto interessante che approfondiremo subito dopo la pubblicità ci fermiamo qualche istante poi di nuovo qui per trascorrere insieme il nostro pomeriggio bentornati a Siamo Noi un viaggio una puntata assai profumata dedicata al cibo e alla religione allora adesso torniamo subito della nostra Caterina che si trova in compagnia di alcuni ospiti e per capire a che punto si trovano ora con la preparazione di piatti ebraici a te Caterina soprattutto vediamo se ha capito qualcosa non è semplice lì eccoci Cateriella in realtà la cucina qui del ristorante Yot Vata sembra semplice ma non lo è poi così in maniera così chiara soprattutto per me perché Massimiliano in realtà mi conosce con la cucina non è che sia proprio una cima Marco invece molto bravo Marco Sed appunto il ristorante Yot Vata nel cuore del ghetto ebraico di Roma vi avevamo salutato che avremmo cominciato a preparare gli aliciotti all'indivia che è uno dei piatti tipici del ristorante e la cassarola cassola di ricotta cassola di ricotta manco il nome so bene quindi pian pianino impariamo ecco Marco che cosa abbiamo fatto fino adesso e come stai continuando allora la prima cosa si prende l'indivia e le alici l'indivia ovviamente si deve cacerizzare cosa significa cacerizzarle bisogna purirla bene controllare che non ci sono insetti in che maniera si fa la si lava bene la si immerge in acqua e aceto l'abbiamo fatto preventivamente dopodiché si controlla contro luce che non ci siano proprio insetti e si fa accuratamente perché nella tradizione ebraica c'è il divieto di mangiare insetti questo Marco si applica a tutte le verdure giusto? le verdure a foglia larga si applica per l'indivia per la cicoria si applica per i carciofi i carciofi vanno capati puliti vanno messi in acqua e aceto dopodiché si controllano tra le foglie che non ci siano insetti ed è proprio un precetto della religione ebraica nasce dal divieto di cibare gli insetti e quindi i nostri maestri ci spiegano che bisogna trattare le verdure in questa maniera con acqua e aceto e controllarle procediamo con l'indivia con l'indivia si fa uno strato di perché poi la parte culinaria è importante si fa uno strato di indivia si mette sale, pepe, alici dopodiché si prende un altro strato si mette sempre l'indivia così ok un goccettino d'olio il piatto è molto banale perché nella tradizione ebraica nella cucina ebraica romana i piatti sono di una semplicità assurda e devo dire molto salutari perché c'è pochissimo condimento assolutamente sì la cucina ebraica o meglio quella kosher oggi è legata a un discorso di salubrità quindi è molto apprezzata dal punto di vista della salute proprio perché c'è questo divieto di mangiare cibi grassi animali che non siano controllati ma anche poco sale ho visto che hai messo poco sale perché fa sempre bene mangiare con poco sale problemi di pressione quindi si fanno questi doppi strati così dopodiché si mette in forno si mette un altro pochino di olio molto semplice così si mette in forno 180 gradi una mezz'oretta e esce fuori il tortino poi di aliciotti poi vi farò vedere com'è il risultato finale e questo intanto noi lo andiamo a mettere in forno torniamo invece alla nostra ricotta ricordiamo che il ristorante Yotwata qui non si trova carne ci sono appunto prodotti a base di latte e tra l'altro è proprio della storia del kibbutz Yotwata mi raccontavi prima sì il nome è preso da un kibbutz che sorge sull'oasi di Yotwata Yotwata è una tappa dove gli ebrei quando uscirono dall'Egitto si fermarono a Yotwata in quest'oasi prima di entrare in terra di Israele noi abbiamo preso questo nome perché come in Israele nel kibbutz Yotwata si fanno latticini noi facciamo latticini e formaggi a nostra produzione e li vendiamo anche li mandiamo anche in tutto il mondo e facciamo assaggiare quella che è la cucina e la tipicità dei formaggi tipici italiani ma fatti con lo standard kosher che significa che noi andiamo a fare il controllo del latte sin dalla mongitura non usiamo mai caglio animale ma solo caglio vegetale o microbico e finché il prodotto non è casificato e finito non lo perdiamo mai di vista e questo è molto importante soprattutto in un piatto del genere che è a base di ricotta Marco adesso hai aggiunto uova e zucchero si prende la ricotta può essere o vaccino o di pecora si mette zucchero si mischia ok dopodiché si aggiungono delle uova allora è molto importante dal punto di vista ebrei con il controllo delle uova gli ebrei non possono mangiare assolutamente sangue nella carne ma anche nelle uova in che maniera si controlla si controlla in questa maniera si prende l'uovo lo si apre e si controlla che non ci siano puntine di sangue si preferisce utilizzare le uova bianche perché nella percentuale di sangue nelle uova bianche è quasi zero ok si aggiungono le uova in questa maniera la cassola è assolutamente banale come dolce si aggiungono le uova dopodiché si mescola in maniera anche abbastanza rigorosa ok si fa praticamente si rende quasi liquida deve diventare un composto omogeneo assolutamente omogeneo poi c'è chi la lascia un po' più granulosa che la si sente un po' sotto i denti mentre la si mangia ecco si fa è molto semplice così quante uova abbiamo messo più o meno su un chilo di ricotta 4 uova e 400 grammi di zucchero c'è chi usa usare della vanillina o della cannella noi la facciamo in maniera molto semplice perché queste lo ricordiamo sono ricette che voi fate esattamente come le vostre nonne assolutamente sì queste ricette nascono dalla tradizione storica delle nostre nonne e appunto nel ghetto erano costrette ad andare a fare la spesa alla fine del mercato e si dovevano accontentare di quelli che erano gli ingredienti che si trovavano a fine mercato la ricotta le uova i carciofi nella concia la zucchina romanesca l'indivia alimenti poveri e le nostre nonne si sono inventate appunto di ottimizzarle nel miglior modo possibile e oggi sono diventati piatti assolutamente importantissimi e di grande e di grande tradizione culinaria e certo poi vanno molto di moda pensiamo in America che ormai la cucina ebraica sta prendendo notevole importanza noi lasciamo Marco infornare queste meraviglie che ha appena fatto e poi nel prossimo collegamento dovrebbe essere tutto pronto no Marco? e lo facciamo vedere ai nostri spettatori a voi in studio a presto datti da fare pure tu dai una mano mi raccomando allora rabbino disegni abbiamo visto i piatti della tradizione ebraica ma c'è una parola con la quale si indicano le regole ebraiche legate al cibo? abbiamo sentito la parola kasher che letteralmente vuol dire qualcosa di buono di adatto che è conforme alle regole ebraiche dalla parola kasher deriva il sostantivo kashrut o kasherut che indica appunto la normativa alimentare ebraica che regola tutti quanti i cibi da quello animale a quello al latte al vino tutto quello che può essere consumato secondo la religione ebraica esiste il zirro una parola analoga che esprime lo stesso concetto anche nell'islam prima ce l'aveva fatta sentire salani mi sembra un momento don Andrea halal che significa esattamente che significa realmente è lecito o è buono da fare o da consumare e che cosa indica quali sono i shibialal shibialal realmente è tutto fuori che carne di maiale o una carne di un animale morto o bevende alcoliche diciamo questi che non si possano bere bevende alcoliche o non si possono mangiare cose morte o carne di maiale o di suino per gli ortodossi invece esiste una parola post che vuol dire digiuno che regola i quattro periodi di digiuno e mercoledì e venerdì e poi il digiuno preparatorio all'eucaristia da sabato sera fino alla domenica per pranzo quando finisce l'eucaristia quindi è tutto integrato all'interno dell'eucaristia e della preghiera io vado in chiesa come mendicante chiedo al Dio Padre il pane quotidiano e mi riscopro col Gesù nel cuore e do la carità quindi mi piacerebbe che si facesse una tavola teologica sulla preghiera però abbiamo parlato un'ora e mezzo sul cibo ma questo cibo non è fine a se stesso l'uomo deve curarsi non dalla carne o dal latte o dal formaggio o dal pesce ma dalle tentazioni della carne dal peccato che è attraverso una vita sregolata che significa anche una vita sregolata nel mangiare mangiamo abbuffate mangiamo panini non mangiamo più in famiglia non ho più tempo per mangiare raccolgo tanto cibo e mi dimentico di colui che è povero giusto per precisare padre Giorgio che questa è una puntata una trasmissione che va avanti da ormai più di 300 puntate assolutamente è un modo di discutere anche di analizzare il senso della preghiera giusto per dovere di informazione per giustizia e verità e poi insomma stiamo dicendo il cibo che si condivide intorno alla tavola quello che ci arriva di fatto da Dio di segni lo dicevamo avevamo cominciato ad anticiparlo prima con Salani cioè allora la carne quando è kosher o kasher a seconda del luogo in cui è pronunciato ma c'è proprio tutta una tecnica precisa di macellazione la carne deve essere appunto seguita dall'inizio dal processo iniziale cioè dalla macellazione che viene appunto eseguita da un esperto che è chiamato in ebraico Shochet e una volta che la carne che l'animale è stato è stato ucciso l'animale viene controllato internamente per perché non perché per verificare che sia sano che non abbia nessuna malattia dopodiché la carne viene salata viene eseguita la salatura per far uscire il sangue qualsiasi qualsiasi sangue rimasto nell'animale e dopodiché può essere mangiata tutto questo avviene alla presenza di un rabbino? Sì una volta la salatura poteva essere anche eseguita in casa nella comunità di Roma però già da vari anni viene eseguita sempre dal dal rabbino o comunque dalle macellerie controllate ecco chiariamo una volta per tutti ci sono e quali sono gli animali proibiti gli animali proibiti si si dividono innanzitutto in quadrupedi che devono essere ruminanti ed avere lo zoccolo spaccato per essere casher i pesci devono avere le squame e la la pinna per essere per essere considerate casher e gli uccelli non devono essere rapaci e ci sono appunto come è stato già detto anche gli insetti non possono essere mangiati e quindi tutti questi animali quelli rimanenti possono essere invece consumati come dicevo però devono essere comprati per quanto riguarda gli animali nei negozi casher che vendono la carne controllata comprati abbiamo visto come viene la macellazione ma per la cottura si segue un particolare tipo di cottura o lì non ci sono precetti insomma esiste il divieto di mescolare carne e latte e quello appunto condiziona anche i servizi di pentolame e di piatti perché deve essere tutto assolutamente diviso non deve avvenire quella contaminazione neanche negli utensili lei prima ci raccontava che nella religione ebraica c'è un grande legame tra le ricette alcune ricette e festività specifiche perché la tavola lei diceva è un momento di grande condivisione e di grande letizia però vorrei che lei ci spiegasse se esistono tradizioni diciamo così legate ad una particolare zona di origine se cambia da posto a posto tanto per intenderci sicuramente sì il cibo non è solamente regolato dai divieti ma è anche un nasconde dei grandi dei importanti significati che si legano a ogni festività e i cibi possono appunto variare in base alla provenienza ci possono essere tradizioni degli ebrei del centro Europa tradizioni degli ebrei orientali e forse nel nelle nelle cucine di oggi si ritrovano tutte quante le tradizioni perché con oggigiorno in tutte le famiglie ci sono provenienze diverse dalla Spagna o dai paesi orientali o dal centro Europa ecco Marco prima in compagnia di Caterina ha detto che tra poco si festeggia la Shavut Shavut la Pentecoste che cosa si mangia? durante Shavut si usa mangiare latticini quindi dolci preparati con latte o con formaggio e il miele anche perché il latte e il miele sono paragonati nei testi nella Bibbia alla Torah alla legge e quindi come dicevo mangiando il latte e il miele si riscopre la simbologia proprio che è nascosta nel cibo e poi ci sono dei cibi che si legano al lutto invece il lutto per eccellenza che viene ricordato nella regione ebraica è il lutto nazionale della distruzione del tempio di Gerusalemme questo lutto viene ricordato appunto con vari digiuni durante l'anno e in particolare con il digiuno del nove di Av che cade generalmente in agosto padre Gheorghe lei prima ci raccontava appunto prendendo spunto dalla parola che in qualche modo è un filo rosso su questi temi per gli ortodossi ci spiegava i tempi del digiuno le chiedo se ci sono altri dettami religiosi legati al cibo durante il digiuno non si anche al di là del digiuno la preghiera l'astinenza e l'atto di carità però per voi diciamo il cibo è legato ai tempi liturgici in maniera molto forte il Natale la Pasqua un trionfo di cibi ci dica un po' che succede a Natale a Natale si imbandisce la tavola con tutto quello che il Dio ci ha donato e ci sono dei piatti tipici sì sono molto simili alla tradizione italiana tipo il maiale il pesce l'agnello a Pasqua le ova Pasqua la colomba tipica per Pasqua solo che sono fatti in modo diversa cioè diversi hanno forme diverse e contenuti un po' diversi ma esprimono quella gioia che il fedele vive nelle feste dopo un digiuno di 40 giorni in cui ha passato un cammino di preparazione di purificazione lui si avvicina non soltanto a tavola ma si avvicina prima alla comunione e questo lo esprime anche nel condividere il pasto con altre famiglie bisognose che invita a tavola si comincia a cucinare molto presto le donne della famiglia oppure tutti quanti collaborano devono stare attenti a cucinare molto prima perché ovviamente non solo mangiare ma anche respirare dei vapori di carne è proibito ha detto prima il rabbino ci spiegava che esistono delle tradizioni locali che cambiano da un punto di vista geografico e così anche dappertutto quindi l'influsso culturale sul dato di fede ovviamente porta a un cambiamento ma ingredienti proibiti non ce ne sono mi pare di capire no non ce ne sono allora io vorrei coinvolgere dopo questo viaggio che abbiamo effettuato abbiamo analizzato bene questi questi punti vorrei chiedere a Salani perché mi pare di non aver mai sentito rispetto a restrizioni rispetto a regole da seguire mai si parla di frutta e verdura questo mi pare che sia una costante no? sì con alcune eccezioni rare eccezioni ma è una costante sì in alcune tradizioni delle regioni orientali come quelli induisti ad esempio c'è un'attenzione particolare un'attenzione diciamo veramente solo attenzione nell'evitare certi prodotti che nascono nel cuore della terra quindi facciate capire cipolle cipolle aglio sono religioni solari e quindi tutto quello che in qualche modo non risente direttamente o indirettamente del sole ecco questo viene in qualche modo punito si tratta di una concezione che va dal più basso verso l'alto per cui più le caste come erroneamente le intendiamo solo per intenderci sono anche disposte a riconoscere un'alimentazione carnea più si sale verso un concetto più elevato e spirituale si arriva l'alimentazione vegetariana e vegana e tra i vegani addirittura anche un aspetto dove metti in evidenza l'attenzione io proprio lì volevo arrivare secondo lei se io mai dovessi organizzare diciamo così una cena interreligiosa se applico un menù vegetariano metto tutti d'accordo? sì non mi deve invitare però non terremo presente momento a disegni così poi vengo da lei padre Gheorghe le lenticchie e le uova si legano è vero che si legano al lutto al menù sono proprio i cibi che si mangiano sia appunto prima del digiuno del 9 di av sia durante la settimana del lutto privato ma perché? perché sia l'uovo che le lenticchie innanzitutto hanno una forma circolare quindi ci ricordano che la vita è circolare e anche la morte può capitare a tutte quante le persone a tutti quanti gli uomini ma anche le lenticchie e le uova non hanno nessuna apertura e quindi ci ricordano che anche le persone che sono in lutto non possono parlare non hanno la possibilità di salutarsi e di intrattenersi in discorsi non importanti questa è una cosa che io per esempio non conoscevo non sapevo padre Ghe esiste qualcosa di analogo anche nelle tradizioni ortodosse sono proprio degli alimenti o una particolare tradizione che si lega all'esperienza del lutto sì assolutamente sì per il lutto e poi per tutto il periodo di un anno successivo al lutto la famiglia prepara dei pranzi in ricordo del defunto o della defunta però il cibo specifico che rappresenta la comunione tra i vivi e i defunti che è l'essenza della chiesa è questo dolce fatto di faro faro e zucchero faro semplicemente bollito legato dallo zucchero che viene benedetto e viene spartito alle persone perché? perché i chicchi di faro rappresentano questa comunione tra le persone all'interno della chiesa tra i vivi e coloro che sono nel regno di Dio quindi non è che con la morte finisce l'esistenza di una persona bensì si passa alla vera vita alla piena vita all'idea di Dio quindi io sono in comunione permanente con i miei defunti e invece nella tradizione musulmana? no non c'è un cibo non c'è un cibo legato a un lutto ma la cosa che viene indicata nel senso religioso che chi ha un lutto e i suoi vicini o i suoi parenti devono preparare il cibo per chi ha la morte diciamo dentro la famiglia per la condivisione e per la solidarietà allora don Andrea ecco torniamo qui torniamo lei prima ci ha detto no io preferisco vedere quello che c'è però sentendo tutto quello che ho sentito intorno a questo tavolo torno a dire mi perdoni che mi sembra che noi un po' questo legame l'abbiamo allentato tra tradizione abbiamo allentato un rapporto con una forma che era certamente una forma moderna noi viviamo un contesto culturale che è clamorosamente cambiato in occidente che sta ripensando l'esperienza del sacro in una forma significativamente diversa dal passato c'è una rottura sì credo che sicuramente c'è una rottura c'è una rottura rispetto non soltanto alla compressione del cibo ma più complessivamente alla compressione dell'esperienza umana però faccio fatica a ritenerlo o a dichiararlo anzitutto come una perdita è un mutamento è un cambiamento come ogni cambiamento certamente c'è il rischio di perdere qualcosa ma c'è anche lo schiudersi di qualcosa di nuove possibilità di uno sguardo differente quello che accomuna un po' tutte le esperienze che abbiamo cercato di descrivere e di raccontare è che il cibo viene vissuto e ce lo ricordava padre Gheorghe continuamente come grazia di Dio e come tale va insomma condiviso sì la religione mi pare concordiamo oggi mi ripeto certo nel senso che si riconosce appunto che l'esperienza del cibo è un qualcosa che mi mette in relazione mi mette in relazione con gli altri mi colpiva mentre prima lui parlava pensavo a un'esperienza io sono di Milano fino a qualche tempo fa intorno a Milano intorno ai cimiteri di Milano c'era una marea di trattorie perché perché non si poteva far mangiare da solo una persona che aveva un lutto il cibo introduce istantaneamente la tavola e quindi le relazioni e non soltanto la relazione tra le persone ma le relazioni con tutti i fratelli con i più poveri perché qui si parla di ricchezza abbondanza e di privazione e certamente anche con il mistero di Dio anche se ripeto proprio in questo tempo noi stiamo vedendo come stiamo facendo per certi versi fatica e riscoprendo la complessità di parlare di Dio non c'è così semplice parlare di Dio però scusi è vero che noi abbiamo continuamente le esperienze e certamente l'esperienza del cibo è una di queste che continuamente ci riportano a un qualcos'altro che si apre si rivela e si schiude questo sì perché però si è smesso di ringraziare in tavola quando viene servito il cibo Dio e pregare il problema è che probabilmente si è smesso di pregare to cure e quindi anche a tavola paradossalmente in realtà forse l'unico luogo in cui ancora un certo numero significativo di famiglie prega è esattamente a tavola non si prega in realtà per esempio più alla mattina non si prega più alla sera forse è rimasta esattamente invece la preghiera almeno in alcuni però il problema non è la benedizione del cibo Fabio Gardi ha sollevato un sovracciglio è il fatto che non si prega più punto non si prega più a tavola allora io sì l'educazione spirituale se noi la togliamo vuol dire che non la teniamo necessaria invece non è proprio così ed è importante assolutamente sì il maestro per la scienza del digiuno è Gesù stesso i profetti e tutti quanti quindi se per delle semplici analisi vado al dottore e mi chiede il digiuno tra virgolette non mangi non bevi non fumi accostarsi all'eucaristia ci serve un po' di sacrificio personale volentieri libero consapevole non imposto padre Gorghi è stato chiarissimo però parlando di tradizioni che si legano alla fede mi sembra che Massimiliano si sia avvicinato a un tavolo piuttosto ricco posso ricordare che Massimiliano batte Gabriella 2 a 1 e questo mi pare importante segnarlo è un po' troppo piano per segnare il gol della vittoria diciamola così non ho badato a spese perché ho raddoppiato le persone qui al tavolo non hai ancora assaggiato guarda quanto cibo quando mai hai avuto tutto questo cibo è abbondanza allora Anna Baciu e Tatiana Tudorache grazie per essere con noi per aver preparato questi piatti cosa ci avete portato? Tatiana noi abbiamo portato un piatto che si fa si usa a Natale che è spezzatino di maiale la polenta con le uva sopra si mangia insieme questi sono i dolci specifici della nostra zona entreremo nel dettaglio questo altro tipo di piatto che lo presenta mia collega che cos'è? questi sono i involtini finché per tradizione di Natale proviamo a vedere eccolo qua vedi quanto è bello che cos'è? finché per tradizione da noi prima si ammazza il maiale si mette in preparazione e poi quando è prima si preparano i involtini perché dentro c'è carne riso con le verdure cipolla carota è giusto ognuno mette quello che gli piace e poi si fa oppure il panettone giustamente sarà come panettone italiano però c'è forma diversa ha una forma leggermente diversa leggermente diversa giustamente io però ho una curiosità prima di capire bene come avete preparato questi piatti voglio capire se voi innanzitutto quanto tempo siete in Italia? Anna? da 20 anni 20 anni 15 anni tatiana insomma voi cucinate nonostante siano passati tutti questi anni solo cibo della vostra tradizione cibo italiani zero no anche cibi italiani giustamente però di più li prepariamo ecco perché padre Gheorghe ci ha imparato tante cose ci ha fatto riunire in Italia e qui giustamente quando ci riuniamo tutti in chiesa noi fiamo le feste con preparazioni tutte specifici allora io voglio capire se questi piatti che ci avete portato sono legati a qualche festività in particolare sì di Natale giustamente di Natale perché da noi di Natale si ammazza il maiale si prepara poi si prepara tutta questa roba questo è la parte salata mi pare di capire sì tutti e due l'avete preparato? sì un po' per uno un po' per uno giustamente ma io sono interessato ai dolci abbiate pazienza il panettone no io voglio sapere questi come sono fatti sono troppo belli vabbè questo è un tipo di impasto che si mette dentro la farina il burro ova e si riempiono con con marmellada o quello che si noci questi sono riempiti ma le fate tutte voi questo da sole? sì sono le forme adatte per questi questi dolci ma mica cucinate tutti i giorni così se no io mi trasferisco no sicuro? quando ci avete voglia ci avvisate quindi siamo pronti chi ride? qua ridono un po' in studio sono birboni no però veramente è un bel allestimento e anche il panettone ha il suo perché ma natale così festeggiate? sì con questo panettone si si fa così da noi canditi ce ne sono e candito certo con uvetta noci cacao allora io invito lei se è possibile delle camere a staccare perché ne vorrei approfittare Gabriella così almeno mangi ecco bisogna saper perdere diciamo in questo caso abbiamo perso oggi vabbè io so perdere e il cirque la vedevo così attento mi è venuta una curiosità lei vive qui in Italia da oltre vent'anni se non sbaglio nelle vostre feste tradizionali quanti cibi che vengono da altre tradizioni religiose lentamente sono entrati? ma realmente il cibo islamico diciamo l'importante è essere halal poi se è halal italiano halal marrochino halal palestinese halal egiziano infatti il cibo islamico è un cibo ricco è mondiale come lo è l'ebraico come lo è il cristiano realmente l'importante è rispettare le condizioni perciò troviamo i fratelli marrochini con la zubba che si chiama Harira alla fine della giornata di Ramadan è il piatto più importante durante la settimana dopo la preghiera del venerdì in particolare in Palestina troviamo makluba la rovesciata in Marocco troviamo il couscous in Giordania mansaf e così allora è una ricchezza noi che viviamo in Italia giustamente il spaghetti è un piatto di spaghetti è una ricchezza quella del cibo che ci può riunire far dialogare confrontarci e farci conoscere e anche in qualche modo veicolo di pace ma la cosa importante è infatti conoscere l'altro e quando inviti l'altro conoscendo cosa può mangiare cosa non può mangiare e come può mangiare perché giustamente non solo per esempio se io invito il rabbino devo sapere che l'unica mozzarella dal mercato che io posso comprarla la mozzarella si può dire il nome non diciamo il nome evitiamo però abbiamo capito abbiamo capito abbiamo capito abbiamo capito il concetto so che questa so che essendo che non c'ho due servizi devo trovare un piatto di plastica e allora io credo questo crea il rapporto umano con l'altro con il diverso che diventa una ricchezza per me una ricchezza culturale ma anche religiosa perché la cosa importante come abbiamo sentito da tutti che noi siamo un valore aggiunto un'uno per l'altro allora se io vedo il mio fratello che parla di spiritualità parla della preghiera durante il cibo che il cibo realmente mangiandolo per spiritualità se vedo non mangiare un tipo come una questione di libertà e mettendo tutto questo insieme unisce tutti quanti noi e diventa una ricchezza per un'uno mi sembra importantissimo allora adesso facciamo un salto rapidamente da Caterina per vedere gli ultimi piatti io in verità Caterina sono rimasta con la curiosità vedete infornato rapidamente quel dolce con la ricotta e lì sono rimasta però siamo sì 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 siamo stati velocissimi qua al ristorante Jotvata di Roma a casa di Marco Sede e della sua famiglia sono stati bravissimi infatti come vedete qua è tutto pronto Marco per lo studio e per chi è a casa facciamo il punto della situazione allora la concia di zucchine come abbiamo detto questo è l'aliciotto con l'indivia finito carciofa e la giudia la cassola di ricotta quella abbiamo fatto prima realizzata con uova ricotta e zucchero ecco come vedete quindi ricette facili ha detta Di Marco però dice che sono facili e in più molto molto rapidi da preparare ecco tra l'altro i carciofi alla giudia sono proprio il piatto che più vi caratterizza insomma in tutto il mondo giochiamo in casa il carciofo alla giudia è la nostra invenzione ce la teniamo stretta e ne manteniamo il segreto assolutamente in maniera molto gelosa ecco un'altra caratteristica di questo ristorante che vogliamo condividere con voi perché la prima cosa che si nota Marco tu hai fatto una scelta i tavoli sono tutti per tantissime persone quindi c'è da proprio questa idea di comunità molto forte sì mi è da subito piaciuta l'idea di fare tavolate grandi nel senso che ci deve essere una sorta di convivialità spesso ci troviamo qui da Yotvada dove tanta gente anche se non si conoscono magari hanno il tavolo vicino socializzano e si scambiano idee anche persone che non c'entrano niente uno con l'altro culture diverse e si scambiano appunto pensieri e impressioni e soprattutto gustano queste leccorni è proprio il caso di dirlo che si mangiano qui al ristorante Yotvada di Roma noi ringraziamo tantissimo Marco Sede per essere stato con noi per averci ospitato e vi restituiamo la linea bene bene Caterina bene brava allora abbiamo imparato tante cose in questa puntata ringraziamo tutti i nostri ospiti grazie davvero spero che gli autori ne preparino un'altra perché qui abbiamo parlato tanto ma assaggiato poco dobbiamo strutturare meglio la prossima volta in redazione qualcosa c'è dei momenti anche conviviali per poter assaggiare quello che abbiamo preparato adesso ci fermiamo per la pubblicità pochi istanti ma subito dopo ci sarà spazio per l'attualità e l'attualità sarà dedicata alla terribile morte di Sara di Pietrantonio la ragazza uccisa dal suo ex compagno ma anche un po' dall'indifferenza di chi di fatto non l'ha aiutata tra poco qui passiamo a noi grazie a tutti aspettatori per le Grazie a tutti.